A Pescara l'ora X dello spettacolo del Giro d'Italia scatterà domani alle 20. Scenario Piazza Salotto sul megapalco cittadino scelto per la presentazione delle 22 squadre e dei 176 corridori. Sabato poi il via della grande partenza dalla costa dei Trabocchi con la suggestiva cronometro Fossa Cesia-Ortona. Saranno centinaia in piazza a voler vedere da vicino i campioni del pedale per una festa di colori dove naturalmente prevarrà il rosa. Colore che in queste ore sta vivacizzando diverse zone del centro e non solo. Vetrine dei negozi vestiti a festa per l'occasione con bandierine rosa a ristoranti e bar del centro pronti ad allestire i propri locali. L'assessore Patrizia Martelli. Sono diversi mesi che è partita la macchina organizzativa. Intanto ricordiamo che Pescara è sede di quartier Tappa dal 1 maggio fino al 5 maggio dove tutta l'organizzazione di RCS sarà presente ma soprattutto la città di Pescara si è preparata con un grande arredo urbano, palloncini, festoni, totem e poi si è illuminata di rosa lo scorso 26 aprile con tutti i luoghi identitari della città di Pescara e luoghi simbolo. E poi domenica 7 la carovana rosa transiterà seppure per breve tempo qui a Pescara lungo la rivera poi anche in altre strade. Sì il 7 sarà il grande giorno il passaggio della Terramo San Salvo e noi come amministrazione comunale abbiamo già invitato tutte le scuole del territorio e le associazioni sportive e quindi aspetto tutta la città di Pescara alle 13.45 a piazza primo maggio. Due le aree cittadine coinvolte cioè il distretto dell'Aurum che sarà sede operativa e quartiero generale di tappa dell'RCS la società che organizza la corsa è l'area di piazza primo maggio dove oltre al palco è riservata ai mezzi mobili della RAI e le unità di servizio a seguito della corsa. Naturalmente non mancheranno i divieti di sosta e circolazione che interesseranno le zone limitrofe. Attesa sulla terraferma ma anche sul mare con le iniziative presentate questa mattina in conferenza stampa alla Marina di Pescara ne parla il presidente della Proloco Pescara Ternum Guerino Dagnese. Le iniziative sono due ci sarà una regata detta proprio regata dei trabocchi a cura del circolo nautico di Pescara che vedrà anche delle imbarcazioni da parte della lega navale di Ortona e di Vasto e poi ci sarà l'invito a chiunque abbia una barca grande e piccola a invadere quel tratto di mare così le telecamere della RAI potranno far vedere la bellezza del nostro territorio. Quindi speriamo quel giorno di fare la nostra bella figura. Oltretutto mai in nessuna edizione del Giro d'Italia è capitato che il mondo della vela accogliesse i corridori e la carovana del Giro. Sarà una prima volta e saranno gli abruzzesi a farlo.